Piazza Mazzini, centrale ed elegante, è ricca di storia, cultura e curiosità. L'aspetto attuale è molto simile a quello che si volle creare ai primi del Novecento, quando la piazza prese vita seguito della demolizione del ghetto ebraico. Uno spazio chiamato all'inizio Piazza della Libertà e poi Piazza Mazzini, aperto a sud lungo la via Emilia e chiuso sul lato opposto dalla sinagoga, edificio costruito dalla comunità ebraica nel 1873. Il ghetto di Modena, voluto da Francesco I nel 1638, comprendeva gli isolati tra via Blasia, via Coltellini e via Taglio. Il piano di risanamento edilizio della città del 1893 ne prevedeva l'abbattimento realizzato poi nel 1902. Dopo la demolizione delle case si avviarono le ristrutturazioni dei palazzi che si affacciavano sulla nuova piazza. Le facciate furono rifatte in parte secondo i canoni dello stile Liberty, allora di moda in parte in stile ecletico. I locali al piano terra vennero destinati alle attività commerciali e la piazza si trasformò in uno spazio vivace e colorato. Nella parte centrale venne previsto un giardino circondato da una cancellata, fusa poi in epoca di guerra. Il verde del giardino ebbe nel corso degli anni diverse sistemazioni. Nei mesi estivi lo spazio adiacente alla via Emilia era occupato dai tavolini dei bar. La piazza, luogo di incontro e di manifestazioni sociali e culturali, fu ritenuta al luogo ideale per la costruzione di un albergo diurno, per rispondere come in molte città italiane ed europee alle esigenze dei residenti, pendolari e viaggiatori, con funzioni igieniche e sociali. La costruzione, realizzata nel 1933, è completamente sotterranea e occupa tutta la superficie antistante il giardino. Vi si accede tramite una scala. Dalla scala si scende alla sala d'ingresso dove si trova il banco della cassiera e il deposito bagagli. Da qui si accede direttamente alle sale centrali del parrucchiere per signora e del barbiere, al pedicure, alla manicure e all'ustrascarpe. Due corridoi laterali portano alle sale da bagno e da toletta di prima e seconda classe e ai gabinetti semplici. In fondo ai corridoi si trovano poi i locali di lavanderia e stireria, il guardaroba e i locali tecnici. Nel corso degli anni sono stati fatti alcuni interventi di sistemazione del verde e delle pavimentazioni della piazza e si sono ipotizzate riqualificazioni e diverse funzioni per il riutilizzo dell'ex albergo diurno, dal farne un punto di accoglienza turistica ad un deposito di biciclette. Oggi Modena intende riappropriarsi di un elemento vitale della propria storia, avviando un progetto di valorizzazione complessiva di Piazza Mazzini, di cui sono già state fatte le prime valutazioni sulla fattibilità tecnica e i vincoli esistenti. Per farlo è importante il contributo di tutti. Il Comune apre un dialogo per raccogliere suggerimenti, proposte e opinioni che orientino la discussione su questo spazio importante non solo per il centro storico ma per tutta la città. È possibile esprimere la propria opinione o inviare idee, immagini, foto o ricordi personali attraverso il nuovo canale digitale, hashtag che ne pensi.